Siamo in compagnia di Sebastiano Greco, presidente dell'Associazione Montepruno Giovani. Oggi nel teatro Scarpetta di Sala Consilina, in occasione dell'assemblea annuale dei giovani, c'è un ospite importante, il giornalista sportivo e esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Sì, Anna Maria, hai detto bene. Oggi, in occasione dell'annuale assemblea dell'Associazione Montepruno Giovani, abbiamo il piacere di ospitare qui con noi Gianluca Di Marzio, che sarà intervistato da Massimiliano Martino, un altro giornalista sportivo originario delle nostre terre. Quindi l'Associazione Montepruno Giovani è ancora una volta a disposizione del territorio, a disposizione dei giovani che vogliono crescere, vogliono maturare, ma che soprattutto vogliono mettersi in gioco. Ed è sempre bello poter tornare in presenza a fare un'assemblea, poter incontrare i nostri amici, i giovani, tutti i ragazzi che sono vicini al mondo della Banca Montepruno. Banca che ci è sempre stata accanto in quest'anno intenso di attività, grazie all'operato del direttore albanese, all'operato della Banca Montepruno e di tutti i collaboratori dipendenti che ci sono sempre stati vicini. Questo lo dobbiamo dire. Se l'Associazione Montepruno Giovani, che ormai da 11 anni svolge la sua attività sul territorio, è presente con tanti giovani e raccoglie ogni anno un sacco di adesioni, è proprio perché dietro ha un istituto bancario che crede fortemente nei giovani e lo ribadisce in ogni occasione. Direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese. Oggi un altro importante evento è stato organizzato dall'Associazione Montepruno Giovani, qui al Teatro Scarpetta di Sala Consilina. Oltre ai lavori assembleari c'è un ospite importante, un giornalista sportivo, è considerato il re del calciomercato, Gianluca Di Marzio. Fatemi dire innanzitutto che sono particolarmente orgoglioso stasera di questa manifestazione magistralmente organizzata dall'Associazione Montepruno Giovani, che oramai cammina con i propri piedi e quindi va veramente forte. Sono orgoglioso per tanti motivi. Sono orgoglioso perché in dieci anni dalla sua Costituzione sono riusciti a raggiungere dei traguardi che mai nessuno si sarebbe aspettati. La nostra associazione, dico la nostra perché mi piace anche interagire con loro, è fra le prime dieci associazioni in Italia, riconosciute dalla Federazione Nazionale delle Banche di Cato Cooperativo, partecipa alle riunioni, partecipa ai direttivi ed è quindi migliora sempre di più e dà orgoglio a noi e al nostro territorio. Stasera sì, è una serata particolare e come oramai ci hanno abituato questi ragazzi c'è sempre una bella sorpresa. Stasera abbiamo Di Marzio, l'hai detto tu, è un personaggio che stasera sicuramente darà lustro a quelli che sono i lavori assembleari. Siamo contenti, che cosa dire? Dire di più, che è felice di essere qui con loro, di portare i saluti della banca, di assicurare ancora di più la nostra vicinanza a questi giovani. Certi e sicuri, e questo lo dirò anche nel mio intervento, che il futuro, come ho sempre sostenuto e detto, passa attraverso loro. La classe dirigente del domani è di voi giovani e quindi siete proprio voi che dovete in un certo senso assumervi le vostre responsabilità così come non abbiamo fatto noi purtroppo. È anche vero che noi di una certa età potevamo fare di più, non lo abbiamo fatto, ma non con questo significa che non dobbiamo starvi vicini. Noi continueremo con la nostra saggezza, con la nostra esperienza, ma io auguro buon lavoro a questi ragazzi, ma soprattutto ai tanti giovani che in questo momento soffrono di tante problematiche e di tanti motivi. Quindi cerchiamo di stare vicini a questi ragazzi e godiamoci questa meravigliosa serata. Siamo in compagnia di Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato. per chi non ti conoscesse, com'è cominciata la tua carriera? Ciao intanto, buonasera a tutti. Ma la mia carriera è cominciata in famiglia perché mio padre è stato un allenatore di calcio, poi un dirigente sportivo e quindi diciamo che la passione per il calcio mi è arrivata da quando sono nato. e poi non avendo le qualità tecniche per poter giocare perché non era cosa mia, ho capito subito invece di avere altre qualità come la voce o comunque la capacità di poter raccontare lo sport, il calcio, ripeto con questa passione nata nel DNA di famiglia e ho cominciato poi a livello locale da ragazzino e poi dopo sono passati vent'anni da quando sono arrivato a Sky e spero di poter continuare ancora a lungo a fare quello che ritengo sia ancora sia il mestiere più bello del mondo perché comunque si vive a contatto con grandi calciatori, grandi eventi e quindi so di essere molto invidiato e però ne sono orgoglioso insomma. Il rapporto che tu hai con le tue fonti? È un rapporto di grande fiducia perché comunque è fondamentale avere un rapporto molto trasparente loro si devono fidare, si devono fidare di me, devono confidarsi sapendo che se mi raccontano delle cose che devono rimanere segrete, rimangono segrete e chiaramente poi più rapporto, più fonti si hanno, più possibilità si ha di arrivare sulla notizia quindi io ho tanti contatti che mi derivano anche dal fatto di essere appunto un figlio di un personaggio che è stato nel mondo del calcio quindi ho avuto il vantaggio di poter avere dei rapporti privilegiati e poi chiaro stava e sta a me custodire con grande rispetto questo tipo di rapporto, però ecco essere se stessi, insomma io cerco di essere me stesso e spero che appunto le persone si fidino di me, questa è la cosa più importante. Cinque squadre italiane impegnate in varie semifinali, con cinque allenatori, ricordiamolo, italiani, cosa rappresenta questo per il nostro calcio? Tanto, considerando anche Carlo Ancelotti a Real Madrid quindi gli allenatori italiani sono ancora di più, è un segnale che spero possa non essere un segnale isolato, spero che possa essere l'inizio di un percorso nuovo, sappiamo che le squadre italiane non hanno la forza economica di squadre di Premier o del Paris Saint Germain o del Bayern e quindi riuscire ad arrivare dove magari loro non sono arrivate è sicuramente credo il premio per le idee, per la programmazione, lo stesso Napoli che vince lo scudetto senza aver speso più di tante altre squadre, anzi spendendo meno, avendo perso dei giocatori importanti ma sapendoli sostituire all'altezza credo che sia proprio il premio alle idee, quindi magari non abbiamo tanti soldi ma abbiamo le idee migliori e le sappiamo mettere in pratica e speriamo di avere una generazione soprattutto di dirigenti oltre che di giocatori, tutti dicono che all'Italia mancano dei talenti del futuro, è importante avere anche dei dirigenti all'altezza che sappiano trovare e scegliere i giocatori giusti in giro per il mondo. In ultimo tu sei stato considerato il re del calciomercato, qual è stato il tuo più grande colpo? Ma guarda io tendo sempre a dimenticare quelli passati quindi spero sia il prossimo, mi piace non cullarmi su quello che ho raccolto nel passato, diciamo che se dovessi tornare indietro e ripensarci, nella mia carriera ne ho dati tanti però quello di Guardiola, quando Guardiola andò al Bayern Monaco e dopo aver interrotto la sua esperienza col Barcellona d'allenatore tutti si aspettavano di sapere dove sarebbe andato Guardiola ad allenare e mi ricordo che quella notizia mi fece conoscere a livello internazionale, ero conosciuto soltanto in Italia e aver anticipato da un giornalista italiano, aver anticipato la nomina di un allenatore spagnolo in una squadra tedesca, fece chiedere a molti miei colleghi stranieri perché questo ragazzo italiano deve essere a conoscenza di questa notizia, ha sdoganato un po' il fatto che un giornalista di un altro paese possa aver conosciuto e saputo prima una notizia che riguardava un altro tipo di calcio mercato, quello internazionale, quindi quella la ricordo con più affetto perché è quella che mi ha fatto conoscere oltre l'Italia. Massimiliano Martino, responsabile dell'ufficio stampa del Frosinone Calcio, oltre a essere speaker radiofonico e conduttore. Qui al teatro di Sala Consilina i ragazzi dell'associazione Montepruno Giovani hanno organizzato una serata dedicata allo sport, alla cultura dello sport e soprattutto agli appassionati. Una serata lodevole, va detto anche perché in un mondo come quello di oggi dove fondamentalmente ormai è difficile incontrarsi per parlare di tematiche così importanti, è difficile ritrovarsi in questo luogo, in questo modo e soprattutto per parlare di cose che ormai difficilmente se ne parla. Quindi veramente io rinnovo i complimenti che farò anche sicuramente dopo all'organizzazione, all'associazione soprattutto e benvengono e ce ne vogliono di queste manifestazioni.